Questo è un 25 aprile un po' diverso, non c'è una manifestazione, ma abbiamo dedicato un momento comunque al ricordo della giornata, alla giornata della resistenza e quindi della libertà. Quindi a nome della città sostanzialmente ho portato quelli che sono gli omaggi alla giornata. In questo momento così strano e difficile per il nostro paese è nostro dovere ricordare sempre il 25 aprile. Che è la festa della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e fascista. Abbiamo recuperato il 25 aprile i nostri diritti di libertà, di uguaglianza, di libertà di stampa, libertà di associazione sindacale, libertà di poter dire ognuno quello che vuole. È la festa di tutti gli italiani. Qui per ricordare, ma anche per dare un monito. La democrazia deve essere sempre il nostro baluardo e deve essere il nostro segno, il nostro principio, il nostro solco, per continuare a essere tutti liberi, tutti italiani, tutti uguali. Questa mattina, come sempre, ho svegliato, ho svegliato, ho svegliato, ho svegliato, ho provato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Partigiano, portami via, oh bella ciao. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. Grazie a tutti.